Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello. Ma quanto ha portato a casa grazie alla partecipazione al reality di Canale 5 E, durata sei mesi l'ultima edizione del Grande Fratello la quale, durante la notte tra lunedì e martedì 25-26 marzo ha avuto fine con la vittoria di Perla Vatiero La GFina è stata in grado di ottenere il primo posto a discapito di Beatrice Luzzi, ottenendo il 55% dei voti a differenza del 45% conquistato dall'attrice la quale ha portato a casa soltanto il secondo posto Un evento che ha portato in molti a festeggiare anche se i fan dell'attrice non si aspettavano un finale del genere Ed ecco che spunta un altro dettaglio riguardo alla vincitrice del reality. Il compenso che è stata in grado di portare a casa grazie al fatto che ha ottenuto il primo posto al celebre reality E quindi, quanto ha guadagnato Perla Vatiero vincendo il Grande Fratello? A quanto ammonta il monte premi di Perla Vatiero come vincitrice del Grande Fratello? Dopo aver portato a casa la vittoria al Grande Fratello, Perla Vatiero ha ottenuto anche una somma in denaro abbastanza elevata Il guadagno ottenuto dal vincitore è stato reso noto da alcune informazioni che la stessa produzione del reality di Canale 5 ha diffuso Per Alfonso Signorini quest'edizione è stata decisamente molto importante in quanto è possibile affermare che è rimasto soddisfatto di questa avventura che ha vissuto insieme a Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici Inoltre, chi ha portato a casa la vittoria è stato in grado di ottenere anche un cachet interessante per ciò che riguarda le numerose settimane passate in casa Qual è stato quindi il compenso che Perla Vatiero ha ottenuto? Anche se non vi è nessuna certezza. Sappiamo che in genere i concorrenti hanno portato a casa tra i 5.000 euro e i 15 euro 000 a settimana. Inoltre, una risposta più certa è stata data riguardo al Montepremi che è molto più ricco Una cosa però che non tutti sanno è che tale somma di denaro non viene data tutta al vincitore Si parla di una cifra che è pari a 100.000 euro in gettoni d'oro anche se Perla ha portato a casa soltanto la metà poiché l'altro 50% viene dato in beneficenza In ogni caso, andando a sommare il cachet, la somma che ha ottenuto è molto più elevata Attraverso ciò che leggiamo in un articolo del giornale, sappiamo che le associazioni di beneficenza a cui viene devoluto quel 50% sono la fondazione Teleton, la Croce Rossa e la fondazione Rava NPH oppure molte altre ancora Insomma, l'associazione verrà scelta proprio dal vincitore del reality In ogni caso sappiamo che il Montepremi è rimasto lo stesso dell'anno precedente, ossia quando, durante la settima edizione del Grande Fratello VIP, Nikita Pelison ottenne 100 euro 000 come vincita per donare 50.000 euro ad un'associazione che si occupa della protezione dell'ambiente 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000